Benvenuti al nostro video di astrologia di oggi. Oggi parleremo delle previsioni astrologiche per la giornata di oggi basate sul segno zodiacale. Oggi è sabato 25 marzo e siamo arrivati al weekend, l'oroscopo del fine settimana di Paolo Fox. Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro. Ariete. Oggi, Ariete, la vostra determinazione è la vostra arma in amore. Rimanete fedeli alle vostre convinzioni e seguite il vostro cuore. Questa fermezza sorprenderà il vostro partner in modo positivo. Per quanto riguarda il lavoro, è meglio rimandare le decisioni importanti. È consigliabile aspettare il momento giusto per agire. Questa è una giornata complicata perché è un ottimo momento per fare piani a lungo termine. Tuttavia, oggi dovresti evitare di prendere decisioni importanti. Ariete, la tua sete di progresso ti riempirà di spirito combattivo. Continua a difendere i tuoi valori, sei sulla strada giusta. Venere fa capolino per riconciliarti, diffondendo un'aura di pace nella tua vita amorosa. Cuore e corpo diventano una cosa sola. Piaceri molto intensi sono a portata di mano. Sbarazzarsi. Toro. Il destino potrebbe avere in serbo per voi un incontro speciale oggi, Toro. Cercherete di stabilire una relazione seria e duratura, e l'amore reciproco rafforzerà questa aspirazione. Per quanto riguarda il lavoro, se qualcuno non condivide le vostre idee, scendete a compromessi. Solo così riuscirete a risolvere un problema più difficile del previsto. Questo è un giorno eccellente per fare ricerche di qualsiasi tipo. Sei felice di lavorare dietro le quinte. Toro. I tuoi legami con i più giovani ti porteranno gioia. Stai ascoltando di più il tuo corpo e questo renderà più facile mantenere le cose in equilibrio. Non premere il campanello d'allarme finché non sei sicuro di cosa stai pensando. Una conversazione diretta con il tuo partner ti permetterà di chiarire un punto nero che oggi non puoi evitare. Gemelli. L'oroscopo di Paolo Fox per oggi consiglia di lasciarsi guidare dall'intuito e di essere più audaci in amore. Potreste scoprire nuovi sentimenti e rafforzare il legame con il partner. Non abbiate paura di esprimere i vostri sentimenti, perché la vostra sincerità sarà apprezzata. Per quanto riguarda il lavoro, la collaborazione e la mente aperta saranno la chiave del successo. Siate propositivi e condividete le vostre idee con gli altri. Puoi rimuovere e distruggere ogni ostacolo che non ti ha permesso di avanzare in un processo legale che hai voluto risolvere per settimane e nient'altro non è stato dato. Ma in questi giorni tutto diventa più leggero, avrai le parole giuste e ti lascerai trasportare dalle giuste azioni che ti porteranno ad una buona conclusione con le tue procedure. È un giorno in modo da non smettere di lottare per ciò che vuoi, dal lavoro all'amore, l'energia che ti accompagna è come un grande dono per trovare rapidamente calma e pace. Cancro Secondo le previsioni di Paolo Fox oggi è il giorno in cui la comunicazione gioca un ruolo fondamentale nella vostra vita sentimentale. Solo ascoltando attentamente il vostro partner e comprendendo le sue esigenze potrete costruire una relazione forte e duratura. Al lavoro, la vostra creatività e capacità di adattamento vi aiuterà a superare ostacoli apparentemente insormontabili. Mantenete la calma e vedrete che tutto si risolverà. E quando pensavi che tutto fosse perduto le stelle pendono a tuo favore e tutto inizia a prendere una piega così sorprendente che non puoi crederci. È una settimana molto importante per te in tutti gli ambiti. Puoi intraprendere, creare, dialogare con persone con cui non avevi osato. Tutto accade per bene in questi giorni e tutto accade a crescere rapidamente. L'aumento del tuo denaro è letterale ogni giorno. Approfitta bene di quel movimento e fai buon uso dei tuoi soldi. In amore capirai che è stato bello porre fine a quella relazione. Ora sei libero di continuare ad andare avanti senza rimpianti. La tua salute è invidiabile. Il tuo sistema immunitario è finalmente rafforzato. Orroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione. Leone. Un'ondata di energia positiva vi spingerà oggi a esplorare nuovi orizzonti nella vostra vita sentimentale. Non abbiate paura di seguire il vostro cuore e di vivere con passione. Al lavoro, la vostra determinazione e il vostro spirito combattivo vi porteranno ad avere successo di fronte alle avversità. Ricordate di essere flessibili e di imparare dagli errori commessi. Questo è un giorno per fare piani a lungo termine sui viaggi o qualcosa relativo ai media, all'istruzione superiore, alla medicina o agli affari legali. Tuttavia, è un brutto momento per acquistare o prendere decisioni. Il tuo senso di iniziativa e la tua volontà di aiutare gli altri saranno favorevolmente considerati da coloro che ti sono vicini. Esprimi i tuoi sentimenti. Leone, dovresti soddisfare il tuo partner e raccoglierai i frutti. Puoi credere nella gratitudine, la proverai. Vergine. Ora è il momento di ammorbidire un disaccordo. Sarai in grado di trovare le parole giuste senza dare l'impressione sbagliata. La tua prospettiva sempre più realistica ti permetterà di avvicinarti ai tuoi obiettivi. Non essere così intransigente con chi ti circonda. Vergine. Ti renderai conto che in realtà hai molti più valori in comune con il tuo partner di quanto pensassi. E tutto semplicemente adottando un approccio diverso alle tue conversazioni. La Vergine si sentirà particolarmente sensibile e vulnerabile oggi, sia in amore che sul lavoro. Non chiudetevi in voi stessi, ma condividete i vostri dubbi e le vostre preoccupazioni con chi vi circonda. La comprensione e l'empatia degli altri vi daranno la forza di andare avanti. Al lavoro, cercate di assumervi maggiori responsabilità e di non sovraccaricarvi. Questa è una giornata molto interessante in amore. I nati sotto questo segno devono prendere in mano la propria vita e decidere cosa fare. Bilangia. L'oroscopo di Paolo Fox per oggi dice che sarà un'ottima giornata per approfondire i legami affettivi e rafforzare le relazioni. La comunicazione è fondamentale per risolvere le incomprensioni, quindi siate aperti e disponibili al dialogo. Al lavoro, il vostro istinto diplomatico e la vostra capacità di colmare il divario tra persone diverse vi aiuterà a fare molta strada. Non abbiate paura di prendere l'iniziativa e di proporre soluzioni innovative. Il clima di oggi aumenterà la tua fiducia in te stesso e ti spingerà a prendere decisioni, entrare nella lotta, esprimere la tua volontà ed essere efficace. L'umore sarà un po' frenetico oggi, ma sarà molto utile se usi le tue abilità per la diplomazia. La tua fiducia in te stesso sta aumentando e ti aiuta a superare gli ostacoli che ti si frapponevano. Bilancia. Non fare promesse che in seguito saranno insostenibili. Consolida subito i tuoi link attuali. Scorpione. Secondo le previsioni di oggi di Paolo Fox, la vostra vita privata potrebbe prendere una piega inaspettata. Cercate di affrontare il problema con calma, maturità e comprensione. Sul lavoro, il vostro intuito e la vostra capacità di riconoscere le apparenze possono aiutarvi a individuare opportunità nascoste. Siate più coraggiosi e non esitate a cogliere le opportunità. La tua mente creativa ti permetterà di renderti utile, non ti manca nemmeno il realismo, quindi non esitare a dare la tua opinione. Una preoccupazione amministrativa o legale che hai lasciato in sospeso per troppo tempo, rispunta la sua testa. Scorpione, cerca di risolverlo il prima possibile. Avrai tutto il necessario per mostrare la tua audacia. Di fronte allo so che alle turbulenze di oggi, dovrai solo seguire il flusso e superare in astuzia agli altri facendo affidamento sulla tua intuizione. Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Sagittario. La vostra generosità e il vostro entusiasmo sono contagiosi oggi, Sagittario, e attirerete l'attenzione di persone interessanti, sia in amore che sul lavoro. Siate aperti a nuove esperienze e non abbiate paura di mettervi alla prova. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra positività e adattabilità saranno la chiave per ottenere risultati sorprendenti. Oggi hai il dono dell'eloquenza, il che significa che puoi convincerti ad accettare o non accettare nulla. Un colpo di pura fortuna ti permetterà di muoverti verso i tuoi obiettivi. Non menare il camperlaia, lascia che la tua spontaneità parli da sola. Sagittario. Assaporerai la tua felicità in un'atmosfera di calma, circondato dai tuoi cari. Questa neutralità benefica ti porterà in favore di qualcuno il cui supporto non ti aspettavi. Capricorno. Oggi potreste sentirvi sommersi dalle responsabilità, sia in amore che al lavoro. È importante rilassarsi e prendersi del tempo per se stessi. Al lavoro, cercate di non sforzarvi troppo per raggiungere i vostri obiettivi e siate pazienti. Sarai circondato da un certo livello di effervescenza che potrebbe farti perdere l'equilibrio. Al lavoro, tutti intorno a te saranno egocentrici e nervosi. Non farti coinvolgere in dispute e aspetta che il cielo si schiarisca. Guarda il pendeio civoloso. Gli errori sono all'ordine del giorno. Capricorno. Controlla di aver capito davvero il tuo partner prima di lasciarti andare senza essere chiaro. Devi rimanere calmo per ritrovare la calma. Sii trattenuto nei tuoi giudizi. Acquario. Il vostro spirito innovativo e la vostra voglia di cambiamento vi spingeranno a tentare nuovi approcci, sia in amore che al lavoro. Siate più audaci e non abbiate paura di mostrare la vostra vera personalità. Nel lavoro, la vostra originalità e il pensiero fuori dagli schemi vi aiuteranno a trovare soluzioni creative ai problemi che si presentano. Mantenete una mente aperta e imparate ad apprezzare le idee degli altri. Le cose tenderanno ad andare per la tua strada. Hai le carte vincenti, tuttavia, non giocare o prendere decisioni importanti fino a domani. Oggi è l'ideale per proporre idee originali e generare nuove strategie che attireranno l'attenzione dei tuoi capi. Avrai il vento a tuo favore, quindi divertiti. Ora è il momento di iniziare a colmare il divario tra sogni e realtà nella tua vita amorosa. Certo, l'acquario, passo dopo passo e dettaglio dopo dettaglio. Pesci. Secondo le previsioni di oggi di Paolo Fox, avrete un'intuizione e un'empatia speciali, e svilupperete una profonda comprensione dei sentimenti e dei bisogni di chi vi circonda. In amore, questa sensibilità vi aiuterà a stabilire un legame più profondo con il vostro partner. Sul lavoro, la vostra comprensione delle dinamiche interpersonali vi renderà una risorsa preziosa in un team e vi permetterà di gestire bene eventuali conflitti. Oggi siete pronti a fare pace con certe persone. Sarete in buona compagnia per l'autorealizzazione. Raggiungerai un accordo con qualcuno nel tuo ambiente e sarai tu a renderlo possibile. Se hai una relazione, gli scambi con il tuo partner saranno tranquilli e pieni di nuova vita. Se sei single, pesci, ti lascerai alle spalle la tua timidezza e il tuo fascino commuoverà più di una persona. Ricordati solo di tenere la testa sulle spalle. Il segno fortunato di oggi, 25 marzo. Quale sarà il segno fortunato di oggi, secondo Paolo Fox? Il segno più fortunato tra voi di oggi, 25 marzo 2023, secondo l'oroscopo di Paolo Fox, è quello della Vergine. La Vergine si sentirà particolarmente sensibile e vulnerabile oggi, sia in amore che sul lavoro. Non chiudetevi in voi stessi, ma condividete i vostri dubbi e le vostre preoccupazioni con chi vi circonda. La comprensione e l'empatia degli altri vi daranno la forza di andare avanti. Questa è una giornata molto interessante in amore. I nati sotto questo segno devono prendere in mano la propria vita e decidere cosa fare.